Alle mie spalle potete vedere un punto di grande passaggio di tutti i veicoli che devono accedere al terminal e ai parcheggi dell'aeroporto. Al fine di facilitare questa viabilità sono stati installati tre totema in formazione dinamica di grandi dimensioni, alti circa 4 o 5 metri. Questo progetto è nato all'interno del piano di innovazione dell'aeroporto. La nuova segnaletica dinamica è collegata al sistema gestionale dei parcheggi aeroportuali. Questo permette di avere in real time il numero dei posti effettivamente disponibili di ogni parcheggio dell'aeroporto. È così che indirizziamo al meglio la nostra clientela a raggiungere il posto auto prenotato e gli utenti che si recono in aeroporto senza aver usufruito del servizio di prenotazione. Questa segnaletica dinamica non indirizza solamente il raggiungimento dei parcheggi ma anche i principali servizi aeroportuali come l'area d'attesa gratuita, la Kiss & Fly e il terminal passeggeri. Queste innovazioni saranno di grande aiuto ai passeggeri per raggiungere più facilmente i nostri servizi.